Salve e ben ritrovati a parlare di abitare il nostro appuntamento più lungo, in realtà il nostro palinsesto, quello di un'ora in cui approfondiamo tematiche diverse ogni volta che ci incontriamo e quest'oggi andiamo alla scoperta, per la verità io andrò alla scoperta e spero che voi possiate venire con me e possiate divertirvi perché i discorsi che faremo quest'oggi saranno certamente molto interessanti, saranno di informazione ma credo che scopriremo anche molte curiosità perché quest'oggi ci addentriamo nel rapporto fra design e innovazione, quindi un rapporto che riguarda tutti noi in moltissimi prodotti che utilizziamo quotidianamente, abbiamo imparato in tutti questi mesi qui a Dada Channel a conoscere un po' più da vicino il design che per la verità è un mondo talmente grande che forse non potremo mai scandagliarlo fino in fondo, però abbiamo imparato tante cose e soprattutto che questi prodotti industriali che si avvalgono appunto del disegno per l'appunto industriale e quindi di livello professionale sono le cose che utilizziamo noi tutti i giorni, però sottoposte a continua innovazione quindi oggi cercheremo di capire di più di come si sviluppa appunto il rapporto tra design e innovazione parlandone con Roberto Santolamazza che è il presidente di Treviso Tecnologia una realtà che abbiamo già conosciuto ad Edalo ma che abbiamo voglia di conoscere in maniera più approfondita e quindi ci faremo raccontare un po' delle cose che analizzate, studiate e quindi preparate e generate e diffondete nel mondo da lì e poi parleremo con il presidente della delegazione Veneto e Trentino Alto Adige di Adi, l'associazione appunto per il design in Italia che è Alex Terzariol. Salve e benvenuti ad entrambi. Poi vi presento anche il nostro tavolino, il nostro tavolino è l'altro ospite di quest'oggi perché sopra questo tavolino ci sono in questo momento appoggiati degli elementi, degli oggetti o delle parti di oggetto che andremo a conoscere un po' più da vicino. Proprio perché questi sono la dimostrazione concreta di quello che andremo a discutere oggi. Allora prima di tutto anche se in realtà entrambi i nostri ospiti ci possono parlare di design e di innovazione andiamo a parlare un attimo di design per spiegare ancora una volta che cos'è visto da Alex Terzariol. Ringrazio per la domanda perché effettivamente molte volte ancora si cerca di interpretare il design come quella cosa che dà un apporto estetico ai prodotti mentre in realtà è qualche cosa di molto più vissuto. Lo è sia dai professionisti che fanno questa professione, lo è anche dalle imprese che con i professionisti lavorano. Purtroppo molto di questo lavoro è un lavoro diciamo sotto traccia quindi non viene sempre così ben comunicato ciò che appare diciamo al prodotto finito ma in realtà quel prodotto finito è frutto di un lungo processo e di un lungo lavoro. Proprio perché tutti ormai sono impegnati sotto il profilo dell'innovazione da tempo e non è un'innovazione di facciata, deve essere un'innovazione di contenuto perché altrimenti oggi come oggi il mercato non ti premia. Il designer e l'impresa devono riuscire insieme perché questo poi molte volte è un lavoro di collaborazione a esprimere innovazione attraverso una serie di elementi. Uno di questi sicuramente è relativo ai materiali, i materiali che giocano un ruolo molto importante. L'altro tema su cui oggi come oggi si è sempre più confrontati è l'apporto di tecnologia. Una tecnologia che fa parte del prodotto a seconda del tipo di prodotto ovviamente ma altrimenti è una tecnologia che serve per trasformare un materiale in un tipo di diciamo di oggetto, un tipo di suppellettile. Questi sono degli assi molto importanti perché senza di questi il rischio è di creare un facelifting che purtroppo rischia di essere qualcosa di moda e dopo qualche breve tempo viene a morire. E poi tutto questo ci allontana, ci distacca ma credo ci faccia anche piacere che avvenga dall'idea del designer come quasi più uno stylist, molto fashion, creativo e basta come se creativo fosse soltanto qualcosa di artistico. Invece no, c'è una preparazione tecnica che sta diventando tra l'altro sempre più professionale, lo è già da anni ma insomma si spinge molto su questo acceleratore. Si spinge molto su questo e effettivamente è qualche cosa che sempre di più oggi visto che diciamo si stanno approcciando mondi, si stanno approcciando mondi sempre più complessi, è qualche cosa che fa parte ormai del bagaglio culturale del designer. È vero, c'è stato forse nel passato anche questa voglia come dire di nominare il designer quasi come fosse l'artista, la star, quella persona a cui era tutto concesso. Oggi no, oggi molto è cambiato, il mercato è estremamente selettivo e soprattutto il consumatore non si fa più abbagliare così come nel passato. Ed ecco che allora andiamo ad analizzare un po' più la parte innovazione, ripeto entrambi coniugano design e innovazione in ciò di cui si occupano, però insomma andiamo a parlare di Treviso Tecnologia che a questo punto entra in campo e che cos'è questo istituto? Treviso Tecnologia esiste da oltre 20 anni perché è nata nell'89 e è azienda speciale per l'innovazione della Camera di Commercio nel senso che è di fatto il suo socio fondatore e come agenzia per l'innovazione devo dire si è sempre occupata sin dall'inizio davvero di design, un po' perché ovviamente il territorio trevigiano ma direi Veneto in generale ha sempre avuto una certa vocazione verso questo tipo di innovazione soprattutto di tipo continuo e di sviluppo di nuovi prodotti e poi perché proprio per le cose che si dicevano design è sempre più sinonimo di innovazione dove appunto design viene inteso io direi nel senso etimologico, nel senso inglese della parola dove design vuol dire progetto e progetto a 360 gradi quindi non solo di stile, non solo di forma ma anche di funzione e di processo per realizzare i prodotti. Come agenzia per l'innovazione diciamo abbiamo iniziato quindi a occuparci ed è un po' la nostra missione che è evoluta a sua volta nel tempo ma che continua a essere lì nel nostro statuto di innovazione come da più punti di vista quindi lavorando molto per esempio anche sulle competenze cercando di sviluppare competenze innovative nelle aziende, nei giovani perché proprio questi temi siano presidiati offrendo dei servizi nuovi quindi abbiamo dei laboratori, abbiamo delle strutture tecniche anche accreditate per testare e certificare i prodotti, ci occupiamo e diamo servizi nel campo della proprietà intellettuale perché un grande tema connesso al design ovviamente è anche la sua tutela, il suo sfruttamento, la sua valorizzazione e in questo per esempio siamo nodo direttamente collegato all'ufficio europeo brevetti quindi ci occupiamo direttamente in maniera istituzionale se vuole di queste cose e poi attraverso progetti di ricerca in cui lavoriamo principalmente su scala europea e quindi sviluppando collaborazioni reti, network e direi anche questo è una parola chiave rispetto al design con altri istituti di ricerca, università, aziende in giro per l'Europa principalmente proprio mirando ad azioni di innovazione, di trasferimento tecnologico comunque di implementazione di innovazioni che vogliono arrivare sul mercato. Quindi è vero che voi intervenite proprio anche per brevettare ciò che è stato disegnato e progettato è vero che in Italia siamo, o siamo stati spero di poter dire, un po' carenti su questo fronte che l'Italia non ha brevettato magari negli anni scorsi tanto quanto avrebbe potuto? Ma in realtà questo è uno di quei falsi miti che anche recentemente sulla stampa abbiamo cercato un po' di demolire a livello locale. È vero, è una delle cose che si dicono. Perché proprio a proposito del design va detta una cosa che secondo me è fondamentale per dare un quadro completo delle cose e ve lo dico da osservatorio in questo senso istituzionale quindi assolutamente anche inattaccabile in termini di qualità dei dati. Rispetto a una ricerca e alcune analisi che abbiamo fatto a livello nazionale ma non è un fatto di quest'anno, cioè del 2011, ma direi è un trend che è abbastanza costante l'Italia è vero che brevetta sicuramente su numeri più piccoli rispetto ai principali paesi europei ma parliamo di brevetti di invenzione. Quindi questa è una verità che viene fuori, il fatto che si brevetti troppo poco magari diventa un facile slogan però curiosamente non viene detto tutto il resto perché proprietà intellettuale è fatta da tanti aspetti è fatta dai marchi, è fatta dai modelli di design, dai modelli di utilità, dal copyright quindi dalla tutela del diritto d'autore e anche dal brevetto di invenzione. Su questi altri fronti l'Italia è un paese molto attivo, in particolare il modello di design comunitario che tra l'altro è l'unico strumento tra tutti che ha un vero valore comunitario cioè un fatto uno vale per tutti i 27 paesi, cosa che non c'è ancora per il brevetto di invenzione vede l'Italia nei ranking ormai costantemente da almeno 10 anni al secondo posto in Europa. Quindi forse era una cosa un po' ormai datata? Diciamo che è una verità parziale perché è vera sul brevetto di invenzione però non è assolutamente vera sul modello di design dove ripeto siamo secondi dietro la Germania e magari anche questa è una notizia nel senso che magari alla Germania si pensa più per l'invenzione ma meno per il design mentre Alex sa benissimo come il mondo, anche il mondo del design si è ben presidiato dall'azienda tedesca ma soprattutto se si pensa in fondo a molti dei settori dove le nostre aziende sono molto ben presenti, forti, esportano sui mercati eccetera viene anche forse più facile capire come in molti casi per i mercati in cui competono per i prodotti che fanno dal mobile in su ovviamente lo strumento migliore per tutelare le cose che fanno sia proprio il modello di design nel senso che ovviamente ahimè abbiamo molti meno produttori di microprocessori o di sistemi avanzati di tecnologia che sono magari più facili da brevettare che da depositare come modelli di design quindi in questo senso io insisto sempre viene detta una verità parziale e sui modelli di design in realtà il messaggio è che ne produciamo molti ma che siamo anche e qui anche le piccole aziende attenti a difenderli non è vero che in assoluto non ci pensiamo Beh adesso c'è ancora in corso la battaglia contro i copioni se non sbaglio magari poi diremo due parole dobbiamo andare in pubblicità lei ha brevettato molto Terzo Reol? diciamo non moltissimo però abbastanza però abbastanza bisogna giustamente tutelare le proprie creazioni andiamo in pubblicità come detto ci ritroviamo tra pochissimo questa sera a parlare di abitare parliamo per l'appunto di design e innovazione stavo cercando di leggere perché quando si stampa a volte viene una stampa piccolissima una frase da un convegno che si è tenuto a Torino non molto tempo fa e allora l'idea era questa e qui vi chiedo di esprimere un vostro parere allora design e innovazione insieme al marketing sono le nuove colonne portanti dell'economia della conoscenza a me tutto sommato è piaciuta questa definizione dell'economia della conoscenza che richiede una visione più ampia rispetto al passato per attivare nuove capacità imprenditoriali e anche manageriali Terzo Reol? Beh è una definizione molto azzeccata questa perché di fatto il design in particolare visto che mi occupo di questo è un trasferimento di conoscenza Adi, l'associazione del design italiano che qui mi onoro di rappresentare come delegazione Veneto e Trentino Alto Adige di fatto da tempo anche sul nostro territorio sta cercando di mettere in relazione i diversi attori dell'innovazione e della conoscenza proprio perché i nostri stessi associati i professionisti e imprese hanno assolutamente bisogno di essere a conoscenza di questo per poterne generare dell'altra questo è molto importante oggi come oggi senza la conoscenza non si va da nessuna parte e proprio perché viviamo in un momento dove tutto ciò corre corre in una maniera incredibile è molto facile perdersi dei pezzi per strada quando c'è una diciamo un'interazione tra un'impresa e un professionista e poi probabilmente anche un consulente di marketing ecco si genera diciamo un ciclo virtuoso molto interessante se c'è anche la giusta come dire condivisione di obiettivi perché poi alla fine si giunge ad un trasferimento vero e proprio verso il mercato e quindi verso il pubblico e tutto ciò viene praticamente percepito come elemento innovativo di modernità di conoscenza poi alla fine perché anche un prodotto diventa un elemento di conoscenza allora sarebbe fin troppo facile dato che stiamo parlando di treviso tecnologia e di che cosa significa questa realtà sembrerebbe meglio facile tutto quello che stiamo dicendo io credo che in realtà facile non sia allora che strumenti esistono veramente quanti fondi servono o servirebbero per migliorare un'attività come la vostra non è unica ma la vostra è certamente una realtà d'eccellenza insomma qual è la situazione risorse direi che ovviamente per definizione le risorse sono sempre molto molto scarse soprattutto in questo periodo però diciamo in generale volevo fare anche una nota rispetto proprio al tema che diceva economia della conoscenza ecco economia della conoscenza fondamentalmente è il paradigma della grande trasformazione che stiamo vivendo e che interessa a tutti ovviamente soggetti come noi ma soprattutto anche le aziende e le piccole aziende nel senso che dietro l'economia della conoscenza c'è questo modello che ormai è abbastanza noto anche come nome dell'open innovation cioè dell'innovazione aperta nel senso che in qualche modo è finito il paradigma del piccolo e bello del faccio tutto io in casa eccetera in questo mondo ormai l'innovazione e il design sono elementi fondamentali ma funzionano se c'è un'apertura, un'impostazione aperta dell'azienda che ovviamente salvaguarda il proprio ma fondamentalmente si rifà a un concetto chiave cioè capisco le cose dove sono forte mi concentro su quello le altre cose le prendo in rete non nel senso esclusivamente di internet ma in un'ottica di collaborazione aperta con professionisti, con studi di design piuttosto che altre aziende altri fornitori che possono darmi conoscenze eccellenti perché altrimenti diventa veramente difficile competere ecco questo è un po' il concetto in questo quello che vede insieme marketing, design, innovazione insomma come pilastri però di una realtà ampia diciamo l'economia della conoscenza è proprio il contesto perché allora il tema non è semplicemente io vendo a te il mio prodotto ma vendo a te anche la mia conoscenza la mia esperienza però ognuno in un'ottica di questo tipo a cominciare anche da soggetti come noi deve concentrarsi un po' sulle cose forti diciamo gli aspetti peculiari le conoscenze specifiche che ha perché altrimenti l'eccellenza davvero diventa una chimera per fare questo dicevo siamo in una fase che io direi anche in un'ottica così un po' positiva più che di crisi è di grande trasformazione perché ovviamente c'è un cambio sicuramente per esempio per le aziende di stampo padronale familiare molto forte soprattutto alla base di di concezione dell'azienda di passaggio a una visione manageriale e quindi da un punto di vista anche nostro di attività le dico che molti dei fondi dei progetti che sviluppiamo quindi per trovare fondi ad esempio su base europea o base magari fondi europei gestiti dalla regione mirano non tanto all'aspetto tecnico o non semplicemente all'aspetto tecnico la tecnologia ma molto per esempio anche ad aspetti organizzativi che vuole dire anche proprio un investimento in un miglioramento delle competenze dentro l'azienda in una crescita in un cambio di visione manageriale perché ad esempio nella relazione con un designer esterno l'azienda deve avere un certo tipo di approccio magari non è mai stata abituata a qualcuno esterno che gli sviluppa un prodotto questo fatto è molto intimo per l'azienda il fatto di abituarsi a lavorare con delle persone esterne e professionisti esterne è un salto qualitativo è un diverso paradigma di lavorare io sto cercando di immaginarmi il piccolo imprenditore veneto che è abituato perché lei l'ha detta in una maniera molto elegante il piccolo imprenditore veneto che tra l'altro ha fatto grande effettivamente l'impresa che si trova però di fronte a un mondo diverso un mondo da un punto di vista economico e appunto imprenditoriale differente che corre a una velocità diversa da quella di decenni fa quindi voi riuscite in qualche maniera ad accompagnare in questo momento di profonda metamorfosi diciamo che c'è un tema soprattutto e anche con Adi abbiamo organizzato già tantissimi momenti in cui questi messaggi sono stati veicolati il tema è un lavoro continuo non ci si può mai illudere che sia abbastanza secondo me la cosa su cui puntiamo attraverso dei progetti specifici eccetera e anche come Adi è un po' uno dei nostri obiettivi è quello anche di sviluppare e far conoscere dei casi di eccellenza perché poi più che tante così illustrazioni di queste cose crediamo funzioni molto l'esempio e quindi esempi per fortuna ce ne sono per esempio ci sono anche degli strumenti nuovi che pur in una carenza generale di risorse sono interessanti ad esempio il contratto di rete è uno strumento una forma giuridica nuova che è stata introdotta da circa un anno per stimolare la creazione di piccole reti di piccole imprese soprattutto mirate a progetti innovativi dove si stimola la collaborazione con delle regole chiare ma comunque ferme non sono semplicemente dei pur parler che però escono da uno dei problemi di relazione che nella tipica azienda veneta si innescava che era quello di dire tu vuoi comprare me io non venderò mai a te eccetera qui non si tratta di comprarsi tra aziende ma si tratta di lavorare in maniera seria su un progetto nuovo dove l'inserimento di professionalità nuove professionalità avanzate esterne è la chiave di volta ma una delle ultime uno degli ultimi progetti che siete riusciti a portare in porto senza fare i nomi insomma che magari non sarebbe bello ma ce lo riesci a raccontare si abbiamo è appena terminato tra l'altro è un progetto che siamo riusciti a finanziare partecipando a un bando regionale e qui abbiamo tra l'altro sfruttato il fatto che sul territorio trevigiano è presente un centro di ricerca di una multinazionale tedesca nel campo dell'illuminazione abbiamo messo insieme altre quattro piccole invece aziende tra le province di Padova Treviso e Venezia che lavorano nel settore dell'illuminotecnica c'è anche secondo una vecchia legge regionale c'è proprio nell'area di Piombino d'Ese un distretto un cosiddetto distretto ecco abbiamo siamo partiti da un fatto tecnologico cioè il fatto di come i led oggi stanno cambiando e hanno già cambiato molto del mondo dell'illuminazione del mondo della progettazione per fare per generare non una nuova lampada ma un nuovo sistema per alcune applicazioni e abbiamo preso questa è un'altra cosa importante abbiamo preso tre giovani designer della facoltà di design industriale di Treviso che tra l'altro è sostenuta proprio dalla camera di commercio di Treviso e quindi abbiamo lavorato con questi giovani designer che per molti in molti casi erano per la prima volta in azienda e le piccole aziende per la prima volta vedevano un designer in carne e ossa e però le dico è stato faticoso perché noi abbiamo fatto un po' da facilitatori e da tutto il resto però siamo arrivati ad avere tra tre famiglie di prodotti che sono stati generati un prodotto che molto probabilmente andrà in produzione a livello europeo e che ha visto lavorare in maniera anche diversa queste piccole imprese che prima facevano puramente del terzismo abbastanza inquadrato si può fare tutto questo dimostra questa crescita nonostante il periodo molto difficile dimostra che si può fare a lei piacciono i led il led è qualcosa che sta diventando sempre più parte del nostro ormai vivere quotidiano non ce ne accorgiamo molte volte perché le fonti luminose diciamo convivono con noi però è particolarmente interessante perché il led ha praticamente dematerializzato la fonte e quindi sta diventando una cosa completamente da scoprire anche quello che riguarda diciamo l'elemento illuminatore ci ricordiamo la classica parabola che stava diciamo intorno alla lampadina del nostro caro Thomas Alva Edison è completamente ricambiato come paradigma e quindi è stato un decostruire un codice diciamo e se ne sta inventando un altro sa che mentre lei parlava al nostro Paolo Trentino ci ha fatto vedere che abbiamo i led in studio siamo abbastanza aggiornati anche noi e cerchiamo di esserlo sempre di più le ho fatto questa domanda perché dopo la pubblicità andremo a parlare in questo caso ho sfruttato l'idea del led che mi è arrivata dal nostro ospite andremo a parlare di materiali innovativi quindi tra poco bene siamo di nuovo insieme stiamo così entrando sempre più nel corso della trasmissione in questo rapporto fondamentale tra il design e quella che deve essere una parola d'ordine l'innovazione tra l'altro se posso dire anche con una certa soddisfazione così di appartenenza territoriale che ogni tanto ci vuole perché mi sembra di capire da quello che voi state raccontando che il nord-est sta lavorando molto da un bel po' di tempo per cercare di fare crescere questo rapporto e quindi di fare crescere l'economia del nostro territorio allora dal led ai materiali innovativi il salto lo faccio io in 448 però volevo chiederle così di illustrarci di farci questi esempi che ha portato lei in studio da noi sì dicevo prima che il materiale molte volte gli stessi materiali sono la chiave di volta del successo di un prodotto è ovvio che però per poter fare questo il designer ha bisogno di avere continue informazioni di fatto il nostro ruolo è un ruolo quasi di antenna un'antenna sensibile a quelli che sono i segnali che provengono dalle aziende produttrici ma anche dalle possibilità di applicazione e che possono poi a cascata diventare elementi di innovazione per lo sviluppo di un nuovo prodotto spesso e volentieri questi grandi laboratori vengono usati nell'aviazione nella costruzione di automobili in parte nella costruzione di elettrodomestici e poi piano piano arrivano diciamo anche nell'uso forse più quotidiano questo è molto importante da dire perché è ovvio che dietro lo sviluppo di un nuovo materiale e della tecnologia che serve poi per trasformarlo spesso e volentieri ci sono delle ricerche prima che permettono poi di far sì che quel materiale sia come dire industrializzabile ad un costo accessibile a tutti perché questo è molto importante di materiali innovativi è pieno il mondo poi purtroppo molti di questi non sono applicabili se non a costi eccezionali uno di questi per esempio riguarda i compositi la fibra di carbonio piuttosto che il Kevlar o quant'altro di origine anche in questo caso avionica è stato applicato anni e anni dopo in un uso diciamo un po' più vicino a noi oggi biciclette da corsa come anche parti di scarponi o che so io vengono sviluppati con questo tipo di materiale perché ha delle prestazioni delle caratteristiche veramente interessanti quando si vogliono raggiungere strutture importanti e leggerezza ecco che nascono diciamo questo tipo di materiali ne nascono molti altri ovviamente poi nel mercato io magari ne presenterei alcuni ecco materiali che sono per esempio interessanti sono questi che sono di riciclo le piastre sono placche diciamo copri interruttori in questo caso utilizzati diciamo per uno scopo quasi più estetico ma in realtà sono frutto di un pensiero e qui c'è sempre dietro il designer perché nascono diciamo dal riciclo di plastiche che altrimenti verrebbero smaltite si spera sempre in modo corretto ma non è sempre detto che sia così in questo caso noi possiamo riutilizzare parti di questo materiale perché un'altra delle componenti molto importanti del designer è che sempre di più e questo soprattutto le ultime generazioni che nascono ed escono dalle facoltà si preoccupano del life cycle assessment l'LCA prodotto è quella cosa che permette a noi designer di essere responsabili rispetto a quello che progettiamo fa parte diciamo di una caratteristica oggi sempre più diciamo definita del nostro lavoro perché ci sentiamo in un qualche modo altrimenti responsabili nel produrre immondizia invece che prodotti altra caratteristica interessante parlando di materiali particolari è questo è il materbi è un materiale che nasce dal mais quindi una cosa molto più bio di così non si può molto particolare e che in realtà è un brevetto tra l'altro tutto italiano ecco che anche qui la ricerca italiana va premiata utilizzato per esempio da qualche anno a questa parte in tutti i McDonald's del mondo quindi sappiamo che lì il consumo soprattutto di suppelletti di tipo questi le posate ma anche bicchierine e quant'altro è enorme è enorme e tutto ciò può ritornare in natura quindi è totalmente ma questo diventa a tenerlo in mano sembra quasi plastica vero? sì è un processo diciamo che rende diciamo questo materiale assolutamente compatibile con gli alimenti perché questo va detto ovviamente ed è totalmente riciclabile riciclabile quindi compostabile è compostabile nonostante abbia questo aspetto così solido così rigido insomma quindi ha delle caratteristiche strutturali e anche proprio di utilizzo molto particolare da un campo completamente diverso invece nascono queste strutture alveolari sono nuovi materiali che stanno nascendo sempre di più nate in particolare per l'edilizia oggi vengono utilizzate anche nell'arredo quindi proprio per le sue caratteristiche di estrema leggerezza questo è un sandwich plastico questa estrema leggerezza permette oggi come oggi di essere interessante per lo sviluppo di prodotti questo potrebbe essere benissimo il piano di un tavolo nella mia somma ignoranza nell'edilizia che cosa sono utilizzati per coibentazione in particolare per la parte coibentante quindi alcuni di questi materiali sono anche ad un basso costo il problema è conoscerli perché questa è la caratteristica principale cioè che venga diffusa la notizia della loro nascita del loro possibile utilizzo esatto esatto proprio perché il designer deve essere come dire questa persona estremamente curiosa deve avere sempre questo spirito di ricerca di andare a guardare cose spesso e volentieri capita a me per esempio capita molto spesso di andare a vedere delle fiere curiose molto strane a cui magari un'altra persona insomma si farebbe qualche pensiero ad andarci io invece vado proprio a fare questo perché è un'opera di scouting in quel momento si scoprono delle cose o si scoprono delle possibilità realizzative che altrimenti difficilmente arriverebbero faccio un esempio i grandi produttori tipo Basf Bayer DuPont che sono diciamo gli assi portanti soprattutto nel tema delle plastiche fanno loro stessi fatica a comunicare tutta l'innovazione che fanno quasi quotidianamente a tutti quelli che possono essere gli attori dell'innovazione cioè utilizzando questi ricordo mi raccontava un ingegnere della DuPont quando loro hanno sviluppato il Corian che è questa lastra che viene utilizzata ormai un po' dappertutto era nata per un'applicazione particolare in campo militare ed è rimasta per molti molti anni assolutamente sconosciuta poi probabilmente qualcuno non saprei dire chi ma comunque qualcuno improvvisamente l'ha trovata ha scoperta ha visto che si poteva anche ben lavorare e aveva una finitura fantastica successivamente è diventato tra l'altro uno dei materiali più utilizzati in campo medicale perché ha delle doti diciamo come materiale antibatterico veramente molto importanti sì l'ultimo caso che volevo qui citare è un materiale ma in realtà forse meglio dire una sua trasformazione vabbè che sarà mai un pezzettino di gomma piuma rivestito di plastica quello no? brava giusto no non lo è scherzo in realtà questo è una cosa un po' particolare è un pezzo di una vasca da bagno una vasca da bagno che nel caso specifico è anche morbida è stato un progetto sviluppato tempo addietro ma la cosa particolare è che la sua finitura e anche la parte interna fanno parte di un progetto integrato dove il designer assieme all'azienda di produzione deve trovare la soluzione per andare a soddisfare l'esigenza di un cliente che vorrebbe avere qualche cosa di particolare ma anche questo è un progetto di ricerca è un qualche cosa che il designer fa all'interno diciamo dell'azienda produttrice stando lì magari quotidianamente vedendo il processo quindi è un lavoro molte volte come dicevo prima sotto traccia non viene spesso comunicato ma è un lavoro molto molto importante perché proprio lì in quel momento il designer capisce delle azioni o delle situazioni e le può utilizzare per un prossimo progetto il designer ha questa doppia realtà questa doppia identità questo così questo aspetto un po' da Giano è creativo certamente di suo proprio per le sue conoscenze per la sua preparazione e penso per un'attitudine anche mentale e quindi può da sé ideare e poi cercare insomma di mandare in produzione una determinata idea oppure c'è questo aspetto interessantissimo che diceva lei rispondere ad un'esigenza che viene presentata e che magari finora insomma non c'era stata è proprio è proprio questo e questa è una componente quella dei materiali ce ne sono molte altre ovviamente però è proprio in questo suo modo di essere di percepire il presente ma ovviamente proiettato al futuro che fa della sua professione qualche cosa che poi permette ai prodotti che sviluppa assieme alle aziende di essere cioè promotore anche di cultura mi sono persa via sul tavolino di terza riola adesso andiamo in pubblicità e poi andiamo a parlare dei laboratori tra poco è stato veramente interessante devo dire questo viaggio attraverso alcuni dei nuovi materiali e soprattutto immaginarsi il designer a caccia di questi nuovi materiali perché possono rispondere appunto a delle esigenze che si presentano magari all'improvviso così giorno dopo giorno anche in un in un lavoro industriale e tutto questo nasce magari chissà per una ricerca grazie a una ricerca fatta da mi immagino lo scienziato pazzo in un qualsiasi posto in una qualsiasi cantina ma generalmente invece in laboratori per fortuna che esistono super attrezzati come quelli che sono stati generati che nascono da Treviso Tecnologia ce ne parla un po' sì volentieri sicuramente il ruolo di un soggetto che supporta l'innovazione eccetera è quella di cercare di accompagnare sotto diversi aspetti e attraverso diversi strumenti l'azienda in tutte le fasi dello sviluppo di un prodotto della sua proposta al mercato eccetera e devo dire che anche la nostra offerta un po' di servizi citavo prima il tema delle competenze della formazione se volete per dirlo in una maniera un po' obsoleta è stato uno dei primi ambiti però poi ci siamo resi conto appunto della necessità di lavorare e di mettere nel piatto molti altri temi quindi citavamo la proprietà intellettuale ma anche attraverso le strutture soprattutto dando accesso soprattutto per le piccole e medie imprese a strutture che siano vicine perché c'è anche questo tema del fatto di non dover andare chissà dove per fare delle prove per fare dei test è nata la volontà ormai da diversi anni di cercare di costruire strutture accessibili e così è nato CERT CERT è un gruppo di laboratori che si occupa di test e certificazione di prodotto ha degli accreditamenti anche a livello europeo e mira proprio a supportare le imprese per ad esempio marcare CE il proprio prodotto che non è ovviamente un tema accessorio perché vuol dire poter ad esempio esportare i propri prodotti quindi è supportare tutti i giorni le aziende per la loro presenza sui mercati nazionali e internazionali a monte di questo però andando soprattutto verso ad esempio il vasto tema dei materiali e del design l'ultimo laboratorio che è nato in ordine di tempo si chiama Nero Luce tra l'altro non a caso lo abbiamo posizionato all'interno di una location molto bella che è ad Asolo che è un incubatore di impresa si chiama la fornace dell'innovazione e che è un laboratorio dotato di varie tecnologie mirato a supportare proprio questo incontro tra designer e impresa o l'impresa nel primo momento un po' del concept dell'idea ancora prima di realizzare il prototipo infatti non a caso uno dei servizi che vengono fatti lì attraverso delle tecnologie digitali è quello di poter prototipare virtualmente l'oggetto quindi in maniera tridimensionale usando delle tecnologie simile a quelle che oggi arrivano nei cinema ma in maniera un po' diversa per poter avere un'idea molto realistica di come potrebbe essere quel prodotto ragionare molto sui materiali e poi fare delle valutazioni ad esempio una delle altre parole chiave eccetera nel campo dell'ergonomia infatti tutto il laboratorio ruota proprio attorno al concetto che è un concetto direi molto centrato nei casi di successo di questi ultimi anni dello human centered design cioè dove il design viene per una volta diciamo in maniera esplicita definito partendo dalle esigenze dell'utilizzatore e non viceversa cosa che ovviamente moltissimi designer hanno sempre usato come approccio ma in qualche modo è stato se volete esplicitato si porta dietro ovviamente tutto un tema anche di mercato di proposta diversa e questa cosa è molto interessante perché permette di mettere insieme tante competenze per dire questo laboratorio Neroluce lavora molto in sinergia ad esempio con la facoltà di psicologia qui dell'università di Padova perché ci sono molti aspetti legati per esempio alle scienze cognitive cioè come l'utente percepisce come legge i colori come legge la forma come legge la funzionalità rispetto all'obiettivo che c'è stato nella concezione di quell'oggetto quindi il prodotto deve essere sempre più facile per usare termini molto semplici facile da utilizzare da parte della persona se pensate mi scusi giusto per fare dei casi casi di incredibile successo di questi anni tanto per citarne uno Apple fonda il suo successo sulla eleganza del design eccetera ma su una parola chiave che è la semplicità di utilizzo e quella è in termini tecnici ergonomia ad esempio del software che genericamente si definisce usabilità va proprio in quella direzione cioè il fatto di semplicemente usare quella cosa senza doversi leggere le istruzioni che detta così sembra semplice ma ha dietro un lavoro incredibile di semplificazione e infatti il designer dell'iPhone tale Hive è diventato un modello a livello mondiale e baronetto per questo allora stiamo andando verso la fine e così io vi lancio un altro spunto per andare appunto verso la fine di questo nostro incontro dice Aldo Via Piana che è esperto di marketing uno dei più grandi esperti di marketing che per competere nei mercati internazionali non basta più saper fare e nemmeno saper fare meglio occorre guardare lontano per prevedere ma soprattutto determinare e orientare il futuro ma si può fare il designer può avere la sfera di cristallo no non può avere la sfera di cristallo ma deve avere la visione e questo è molto importante ed è proprio un pochino questo il tema su cui ancora c'è confusione quando si parla di design il designer in diciamo quando entra all'interno di un'azienda tocca quelli che sono i punti sensibili dell'azienda stessa e con essa individua anche quelle che potrebbero essere delle proiezioni in avanti non di un prodotto ma di un possibile desiderio e non parlo solo di bisogno e qui c'è diciamo un po' il punto focale ci sono effettivamente delle situazioni delle realtà che trasformano la nostra società noi siamo continuamente in trasformazione l'abbiamo detto anche prima stiamo vivendo tra l'altro anche un periodo abbastanza complicato per semplificazione lo chiamiamo crisi in realtà no è un insieme di tante cose che ci fanno perdere i punti di riferimento e probabilmente nel futuro ne avremo sempre di meno ecco che qualcuno parla anche di situazione liquida siamo in un momento di liquidità e non faccio riferimento a qualcosa altro in questo magma che continua a cambiare forma che continua a cambiare situazione il designer deve riuscire assieme diciamo alle persone che stanno intorno a lui perché ovviamente non è l'unico attore però la sua sensibilità la sua diciamo percezione di quello che è un mutamento gli deve permettere di avere questa visione e immaginare insieme a chi gli sta intorno una possibilità di proiezione dove andare a individuare possibili nuovi mercati ma soprattutto che cosa potrebbe avere bisogno domani la gente che oggi fa tutta un'altra serie di azioni lo vediamo anche recentemente sono nati proprio ultimamente dei prodotti che non esistevano noi avevamo i computer ma i tablet non ci pensavamo assolutamente i tablet non sono soltanto dei prodotti sono delle modalità io riesco a lavorare per esempio anche mentre sono per strada e perché questo è una modalità d'uso completamente differente ma ci voleva dietro qualcuno che avesse questo tipo di visione e non parlo soltanto nel campo tecnologico dove forse è più facile diciamo poter immaginare tutto ciò parlo anche nel campo abitativo parlo anche nella nella modalità di vivere che sta cambiando radicalmente se prima pensavamo alla classica famiglia oggi dobbiamo pensare a delle situazioni completamente diverse molte volte esplose allora che cosa avrà bisogno quel tipo di utente domani quando si troverà in una situazione diversa rispetto all'attuale e si può pensare all'esterno ma si può pensare anche molto alla nostra casa semplicemente all'interno della nostra casa quindi l'arredamento ma anche le tecnologie che adottiamo dentro casa certo è proprio questo la nostra casa probabilmente cambierà e sarà sempre di più la nostra pelle e noi non pensiamo tanto agli oggetti quanto più alle situazioni nelle situazioni si possono poi calare gli oggetti ma le situazioni sono molto importanti ecco che molte volte e qui voglio appunto puntare questo aspetto il designer non è quella persona appunto che si preoccupa di abbellire l'oggettino e questo lo ribadisco con forza è veramente quella persona che con delle parole chiave con delle keywords può immaginare di far nascere non solo nuovi prodotti ma soprattutto nuove situazioni nuove relazioni ecco perché molte volte oggi si parla non solo di design del prodotto ma anche di design del servizio e io credo che con questa full immersion che abbiamo fatto noi adesso l'avete spiegato molto molto bene una battuta sul futuro innovazione senza futuro non esiste cioè le due cose vanno assieme e quindi sapere guardare lontano nel tempo ma anche nello spazio unire le potenzialità che vengono un po' dalle varie parti del mondo credo che sia una chiave di lettura anche del vostro lavoro assolutamente diciamo che in una parola l'idea è far capire come l'innovazione non sia un fatto puntuale che quando io arrivo magari con il mercato a presentare un nuovo prodotto poi posso stare tranquillo l'innovazione è e deve diventare anche per le piccole imprese un processo continuo cioè un processo di tutti i giorni e soprattutto per le aziende che magari stanno godendosi giusti allori di un prodotto di successo perché quel successo lo dimostra un po' il mercato è sempre più breve necessariamente e per darvi una battuta lavorando molto a livello europeo noi stiamo portando avanti un progetto che si chiama Prosumer che è un progetto sostenuto direttamente dall'Unione Europea sul tema c'è questo diciamo neologismo di consumer quindi di consumatore come ruolo sempre più proattivo nel consumo cioè nel fatto che i nuovi molti nuovi prodotti derivino siano quasi disegnati attraverso i social network attraverso forme partecipate comunque dai consumatori e questo è secondo me un input molto molto importante perché soprattutto nei settori maturi dove i mercati soprattutto nei paesi occidentali sono di sostituzione quindi non sono vere esigenze di base ma sono semplicemente miglioramenti o sostituzioni dei prodotti esistenti questo è assolutamente un paradigma importante nel pensare le nuove esigenze allora purtroppo dobbiamo fermarci qui ma credo di poter dire che alla fine di questa trasmissione tenendo le dita incrociate la Cina ci fa un baffo grazie a Roberto Santella Mazza presidente di Treviso Tecnologia Alex Terza Riolle il presidente di ADI Veneto e Trentino per essere stati con voi e con me a spiegarci tutto questo mondo spero di incontrarvi prestissimo per continuare il nostro viaggio intanto buon lavoro e grazie a voi che ci avete seguito arrivederci grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti